Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura la politica cittadina presentati ufficialmente ieri in una conferenza stampa nella sala consigliare a Torre del Greco i nuovi assessori della giunta Palomba. Passiamo poi alla cronaca con la maxi operazione contro i clan della Guardia di Finanza. 200 uomini delle fiamme gialle in campo da questa mattina per arresti e sequestri. I carabinieri invece hanno fermato un traffico di sigarette di contrabbando arrestando 13 persone. Torniamo a Torre del Greco dove i volontari dell'associazione AEC hanno bonificato il sito storico delle cento fontane. E domani le celebrazioni per San Biagio alla chiesa di Santa Maria del Principio. Abbiamo ascoltato il parroco Don Luigi Maiulo. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Il Consiglio Comunale di ieri ha visto la presentazione della nuova giunta comunale di Torre del Greco, creata dopo l'azzeramento disposto dal sindaco Palomba. Un esecutivo di larghe intese, costato settimane di discussioni, polemiche ed accordi. Il primo cittadino è esordito ringraziando i nuovi assessori che hanno scelto di essere al suo fianco per il bene della città. Ognuno porta avanti una sfida cercando di migliorare, se è possibile migliorare. E quindi è un po' un bando di sfida che ci siamo da te, nel senso buono della parola, di dire il sindaco voglio stare a fianco a te e voglio far sì che se c'è possibilità di migliorare. Riconfermato quindi Enrico Pensati, con deleghi al marketing territoriale, cultura, eventi, turismo, pubblica istruzione, politiche della famiglia, avvocatura e contenzioso patrimoniale. Inoltre a lui passa la carica di vice sindaco, fra le prime questioni da affrontare quella del bilancio. Noi abbiamo un ruolo che è legato all'aspetto amministrativo. La parte politica di quella che sarà la nuova maggioranza consigliare è chiaramente opera del sindaco. Il sindaco ha detto nella conferenza stampa che si è appena conclusa che vedremo in aula quali saranno i voti necessari a sostegno di questa azione di governo. C'è una data per l'approvazione del bilancio? Oggi si è insediato il mio assessore al bilancio, la dottoressa Ottaviano, quindi già inizia un dialogo costruttivo con il dirigente. Vedremo i tempi, cerchiamo di capire soprattutto quali sono gli indirizzi che questo nuovo esecutivo vorrà dare, quelle che saranno le priorità. Dopodiché capiremo anche i tempi. E' proprio Annarito Ottaviano, già assessore nel primo anno targato Palomba, ad aver ricevuto la delega al bilancio. Oltre che per tributi, risorse del mare, problematiche dei marittimi, pesche ed agricoltura, benessere animale, digitalizzazione e videosorveglianza. Abbiamo stabilito già un gant delle attività per quanto riguarda la programmazione del bilancio previsionale che fra poco siamo chiamati sia in giunta e poi successivamente in consiglio comunale all'approvazione. Il mio lavoro sarà un lavoro trasversale e congiuntamente con tutte le deleghe e tutti gli assessori perché il bilancio non si fa da soli, il bilancio si fa in armonia con tutti i settori e quindi cercheremo di attuare tutte quelle politiche che portano beneficio alla città stessa. Ritorna dopo anni nell'esecutivo cittadino anche Giuseppe Speranza, con deleghi a cimitero, servizi demografici, CED, sport e impianti sportivi, servizi tecnologici e formazione. Il sindaco l'ha definito come un uomo pronto a risolvere in prima persona i problemi pratici dell'amministrazione e dei cittadini. A esigenze pratiche dovrà rispondere anche Felice Gaglione, fresco di nomina per lavori pubblici, infrastrutture, decoro ed arredo urbano, manutenzione straordinaria, edilizia scolastica e sportiva, fondi comunitari, nazionali e regionali, programmazione e progettazione. Sul suo piano di lavoro già la bretella autostradale e la gestione logistica del piano vaccinale. Aprire questa famosa bretella per snellire tutto il traffico del greco. Ed è una sfida molto importante perché è legata a tante burocrazie molto pesanti. E che io prenderò a cuore questa sfida e la farò mia. Come pure la riapertura dell'ex mercato ortofrutticolo, che sarà un volano per la città. E poi il sementificio a via Lavatroia, la quale struttura è stata acquistata in lotempore da questa amministrazione. Purtroppo per una vicissitudine e per un'altra abbiamo perso dei finanziamenti per far partire quella struttura. Attualmente la cosa che mi interessa e prima di più è quello che assieme all'amministrazione, con il sindaco e con i dirigenti e con l'ASL, stiamo lavorando per un punto per i piani vaccinali di tutta la popolazione. Gennaro Polichetti, con delega d'urbanistica su app e di attività produttive, è invece già impegnato nel piano urbanistico comunale, da tempo atteso dai cittadini e dal vaglio dell'amministrazione comunale. Non è qualcosa che si può cambiare laddove si accorgesse che è sbagliato, è qualcosa che viene fatto oggi, deve durare nel tempo, negli anni, dando la possibilità di creare gli giusti ambiti e scenari per uno sviluppo sostenibile, che badi bene all'ambiente, che badi bene agli interessi imprenditoriali e soprattutto una buona vivibilità per i cittadini. Volto nuovo l'avvocato Immacolata Marra, con delega per la nettezza urbana, verde pubblico e polizia municipale. A lei il compito gravoso è risolvere le criticità legate ai rifiuti nel più breve tempo possibile, come promesso dai consiglieri Melebuono, che hanno appoggiato la sua nomina. New entry nell'esecutivo cittadino anche l'avvocato Maria Pirozzi, con delega alle politiche sociali, ufficio di piano, politiche giovanili, informa giovani, igiene e sanità e demanio. Oltre 200 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto dei comandi provinciali di Salerno, Caserta, Catania, Torino e Varese, stanno seguendo 20 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia Partenopea, nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti membri di tre distinti gruppi criminali e narcotrafficanti, con basi operativi a Torre Annunziata e nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. Il primo gruppo dei criminali è riconducibile alla famiglia genovese, già oggetto ai precedenti vicendi giudiziarie per affari illeciti col clan Gallo Cavalieri di Torre Annunziata. In particolare, il nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli è riuscito a ricostruire i traffici di Genovese Franco, promotore del sodalizio criminale, il quale aveva acquistato partite di Ashish da trasferire prima in Sicilia, attraverso l'intermediazione di un esponente del clan Cappello di Catania, e successivamente a Malta, dove un suo associato provvedeva ad immettere nel locale mercato dei stupefacenti. Parallelamente, l'attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un secondo gruppo criminale, composto dalle famiglie Manzi-Dannier, operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano. La famiglia Dannier risulta storicamente inserita nel panorama del narcotraffico ed è ritenuta vicino al clan di Lauro. Il Gico di Napoli ha posto l'attenzione su un terzo ed ultimo gruppo criminale, composto esclusivamente da componenti della famiglia Dannier, rivelati sia abili broker della droga, vantando numerose referenze tra gli esponenti dei cartelli fornitori spagnoli e tra diversi affiliati di clan camoristici nell'area napoletana, determinanti per il loro business i frequenti contatti che i Dannier stabilivano e mantenevano con esponenti di diverse organizzazioni, tra le quali di Lauro e Caldarelli, rispettivamente genmoni dei quartieri partenopei di Secondigliano e delle case nuove, ai quali avevano proposto la fornitura dello stupefacente. Complessivamente nel corso di questa lunga investigazione sono stati tratti in arresto 11 soggetti e sequestrati 576 kg di hashish, 11 kg di cocaina e 166.360 euro in contanti. L'attività odierna costituisce l'epilogo di una complessa investigazione di polizia giudiziaria condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. L'attività investigativa si è concentrata essenzialmente su tre gruppi criminali, operanti sia in provincia di Napoli, nella città di Torre Annunziata, che nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. I componenti del sodalizio criminale avevano dei contatti molto stretti con appartenenti a clan napoletani operativi da sempre nel campo del narcotraffico, così da riuscire ad ottenere delle forniture costanti di cocaina ed hashish da destinare sia alle piazze di spaccio napoletane che addirittura in altri paesi. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richieste della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 13 soggetti, tutti censurati, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le indagini svolte dai militari della stazione carabinieri di Afragola, coordinate dalla DDA Partenopea, nel periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2019, hanno consentito di ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo criminale dedito al traffico di sigarette, il cui approvvigionamento proveniva sia dal mercato illegale del capoluogo napoletano sia dai territori limitrofi al comune di Afragola, con successiva distribuzione a cura di una rete di gorrieri attiva sul territorio. Sono stati altresì localizzati i punti di rivendita di bionde sul territorio afragolese, individuabili nelle aree limitrofi al cimitero comunale di Afragola, nel centro storico, nonché nel rio Le Salicelle. Sono contestualmente in corso di esecuzione numerose perquisizioni nei confronti di altri indagati a vario titolo coinvolti nel traffico illecito. Nel corso delle investigazioni, a riscontro dell'attività di indagine, sono stati operati i sequestri per detenzione di tabacco lavorato estero, per un peso complessivo di circa 200 kg. Dalle indagini sono emersi i legami con soggetti del gruppo criminale Barbato Bizzarro, operante nel rione delle Salicelle di Afragola, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrabbando di sigarette. Solo una settimana fa, mostravamo con le nostre telecamere il degrado e l'abbandono in cui versavano le cento fontane di Torre del Greco. Sabato 30 gennaio i volontari dell'AEC, associazione ecoculturale attiva per rivalorizzare le bellezze cittadine, sono intervenuti per risolvere la situazione. L'intervento è durato quattro ore ed ha visto la partecipazione di dieci giovani torresi. I ragazzi, con tanta buona volontà e tanta fatica, hanno raccolto e gettato i rifiuti di ogni tipo presenti in zona, estirpato le erbacce che avevano preso il sopravvento sulle antiche pietre e cercato di ridare un decoro al monumento. Quasi 20 sacconi di immondizia, questa è la molle dell'inciviltà che i volontari hanno provato a contrastare. Ad oggi le cento fontane sembrano pulite, ma per portarle allo splendore serve ben altro che mani volenterose. I segni del tempo e dell'abbandono sono più profondi della semplice sporcizia. Il gesto dei volontari ha sicuramente portato nuova ninfa vitale al sito storico, ha portato civiltà e senso civico. Un'operazione del genere era avvenuta già l'estate scorsa ad opera di un gruppo di tifosi e la Turris, ma dopo poche settimane i rifiuti tornarono ad invadere le antiche vasche. L'impegno è un gesto che rischia di cadere nel vuoto se adesso non segue la partecipazione di tutta la cittadinanza, con comportamenti responsabili e civili. Un impegno che deve essere continuato dalla stessa amministrazione comunale, con mezzi più consistenti della buona volontà e delle forti braccia dei volontari. Serve un intervento volto a salvare il nostro patrimonio storico e culturale e soprattutto una presenza costante per preservare e difendere le nostre eccellenze. Il cuore dei giovani non può diventare sempre una pezza per coprire le mancanze di chi dovrebbe davvero agire. La chiesa di Sant'Anna a Torre del Greco si prepara alle celebrazioni di San Biagio. Tradizionalmente il 3 febbraio di ogni anno i fedeli torresi si recano alla piccola e antichissima cappella in via Calastro per i ditti collegati al santo protettore della gola. Quest'anno l'emergenza pandemica non consente di riunire così tante persone in un luogo di culto tanto piccolo. Per questo motivo l'effigie di San Biagio custodita nella cappella è stata trasferita nella chiesa di Sant'Anna che domani ospiterà le celebrazioni. Il parco Don Luigi Maiulo ci ha spiegato la liturgia e la tradizione legate al santo. Oggi la chiesa celebra la presentazione di Gesù al Tempio che è conosciuta come la Cantelora. Durante la celebrazione eucaristica verranno benedette le candele che è simpolo dell'essere luce del mondo. E in preparazione a questa festa liturgica noi ci prepariamo anche alla festa di San Biagio, Vescovo e Martire che domani la chiesa celebra. E' il primo anno che è nella nostra famiglia parrocchiale e c'è l'immagine di San Biagio della chiesa di Via Calastro. Siccome che la chiesa è molto piccola la famiglia Sorrentino Palompa, nostri parrocchiani hanno deciso di portare qui la statua. Noi celebreremo le sante messe domani mattina alle 8, 10 e nel pomeriggio alle 18 e 30. Ci saranno dei volontari che daranno all'uscita della chiesa daranno un baduffolo di olio benedetto con i taralli benedetti. Sappiamo che San Biagio è miracoloso proprio per la gola, per il mal di gola. E si racconta che mentre lui andava al martirio una mamma disperata perché il proprio figlio stava per morire mise ai piedi San Biagio il proprio figlio San Biagio lo toccò, pregò e il bambino si risvegliò. Questo è il segno del miracolo. Viviamo questi due giorni in piena comunione con tutta la chiesa e anche nel pensare che oggi il nuovo arcivescovo di Napoli prenderà servizio alla chiesa. E noi anche questa è un'intenzione di preghiera. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattarci inviando un'e-mail all'indirizzo redazione-tvcity.it chiamando al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS